Rosanna Banfi, siamo tutti scioccati, lutto ancora molto doloroso. L'attrice ha perso da poco sua madre e confessa, siamo ancora tutti scioccati. Lunedì Rosanna Banfi compirà gli anni. E ha deciso di fare il bilancio della sua vita in una lunga intervista rilasciata al Magazine Nuovo. Per lei questo sarà il primo compleanno senza sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare giusto poco tempo fa. Una perdita che la donna e suo padre Lino Banfi ancora non sono riusciti a superare, nonostante fosse malata da qualche anno a questa parte. Siamo ancora scioccati, anche se lei non stava bene da diverso tempo. Quest'ultima ha comunque dichiarato che questo compleanno sarà importante per un motivo importante. Quale? Compirà 60 anni, è un traguardo molto importante. Rosanna Banfi sulla giurata di Ballando con le stelle confessa, purtroppo le sta ancora combattendo contro il cancro. Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha fatto presente alla figlia di Lino Banfi che è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del talent show. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quest'ultima ha dichiarato che le piacerebbe tanto escludendo però nella maniera più assoluta una sua partecipazione al reality show VIP condotto da Alfonso Signorini. Non potrei mai stare mesi lontana da casa. Ha invece aperto ad una possibile sua partecipazione a Pechino Express, anche se dovrebbe essere costretta a stare lontana dalla sua famiglia. Però questa avventura onestamente la farei ben volentieri. Insomma l'attrice è pronta a tornare a partecipare ad un programma TV dopo l'ottima esperienza a Ballando, escludendo però a priori una sua ingresso nella casa più spiata dagli italiani.